Se ne va Ben Hortner ed arriva Paul Biliga. E' la prima novità del basket mercato per i campioni d'Italia 2017 dell'Umana Reier. Dopo la partenza di Ariel Filloi, che ha accettato la proposta di Avellino, il centro italiano di origini camerunensi sarà con Stefano Tonut e appunto Filloi a breve impegnato nella sfida per un posto in nazionale europei in programma il 21 luglio. Un colpo di mercato messo a signo dal presidente Federico Casarin, che pare sia riuscito da Capparazzi giocatore battendo sul tempo Sassari. Biliga proviene da Cremona, retrocesso in A2, nato a Perugia, ma è cresciuto in Ghana fino a 17 anni. Sportivamente si è formato nel Casal Pusterlengo, poi è esordito in Lega 2 giocando a Crema e Pavia. Nel 2012 il debutto in Serie A ad Avellino, dove non lo ha trovato però spazio durante la guida di Frank Vitucci. Recupera l'A con Cremona, con mister Pancotto che lo aveva proprio voluto ad Avellino prima di Vitucci. Ora lo sbarco in Laguna. Ne ha acquisto anche per la squadra femminile con Martina Bustagno. Biliga è il sesto orogranato ufficiale della squadra 2017-2018. Confermati Tonut, Bramos, Hines, Ress e Peric. C'è ora attesa per l'ufficializzazione di Andrea De Nicolao, play chiamato a sostituire Filloi. Alla Reier stanno lavorando sui rinnovi di Julian Stone, Melvin Ejim e Tyrus McGee. Conferme non facili in un mercato dove la concorrenza è elevata e si tratta di campioni d'Italia. Costruiremo una squadra competitiva, ha ribadito comunque Casarin.